Danze, maschere, colori e dame, ma anche un'improbabile cavalcatura. Sono questi alcuni degli ingredienti della grande serata del carnevale di ieri sera alla Gran Guardia, il magnifico convivio. Non poteva mancare il sire del carnevale veronese, il papà del gnocco, che ha accolto vari ospiti illustri, fra cui il doge di Venezia. E oggi, con la festa della Renga di Parona, si chiude il lungo carnevale veronese 2019.